Interessante. Questa, Marisa, bella, sconcertante, la segretaria più particolare. Il giornale che ha davanti le nasconde il bel visetto, ma delle segretarie di concetto meglio veder le cose più importanti. Senti, mo' questo incomincia pure a fare per Nacchi. Senti, Gnappetta, oggi noi andiamo a mare. Là ci sono tutti i signori che lavorano all'ufficio dove lavora papà. Tu devi promettere a papà di non fare nessuna pernacchia. Vediamo che non scappa. Ecco fatto. E il cavaliere dov'è? Eccolo là, sta a chiacchierarlo. Senta, ma io lo so dove sta al Florida? E come no, modestamente, io sono pratico. E allora andiamo avanti. Oh, sbrigate, che noi andiamo avanti. Cavali avanti, sempre avanti. E beh. No, la colpa è del padre. Che cabina ti hanno dato? La nove. Eh, lo sapevo io, con tante cabine che ci stanno, proprio la nove ti dovevi fatà. Ma perché? La conosci? L'hai vista? No, ma siccome a te danno subito le bucerature, quando t'offrono una cosa, devi rifiutare, fatele un'altra. Io modestamente ho la diciotto. Ecco, sentite, diciotto, il doppio di noi. E' bella la diciotto? Che ne so, ma meglio del nove sarà. Non importa. Che cabina hai? Numero nove. Il numero nove? Molto bene. Adesso vado a prendere una cabina per me. Magari la decima, con il bagno. Il bagno poi lo faccio dopo. Addio, cara. Ciao. Ciao. E' la nove questa, eh? Sì. E allora che sta a fare? L'hanno data a me. Che sta a fare lei qui? Ma sono venuta al mare col commendatore, una gita innocente. Giungo mia moglie e vado via con lei, eh? E così voi potete uscire tranquillamente. Non è una martelletta. Marisa, apriamo questa martelletta. Un momento, lasciami vestire. Avanti, sentiamo un po' chi c'è nella mia cabina. Signor Falcomazza, fuori, fuori. Accidente, ma guarda, ma... Ma quando si perde un bottone non si riesce mai... Portiamo domani mattina in ufficio.